Ciao a voi belle persone, come state? Come avete assimilato questa vittoria dalla Juventus in Champions League, la prima di Pirlo, la doppietta di Morata? Beh, io sono contento, ma non è ancora il giorno dopo per me, sto registrando subito dopo la partita e quindi fatemi sapere il giorno dopo per voi invece com'è. Un mi piace a questo video perché stiamo cercando di capire anche se questa cosa, quindi la live reaction, può essere un format per il canale, è tutto dipendere da voi, fatemi sapere con i vostri commenti, con i vostri like, il vostro supporto, se volete altre live reaction o se devo semplicemente lasciar perdere perché è un contenuto che non vi interessa. Questa live reaction ovviamente vi invita a scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, mi raccomando, fatelo perché è un'applicazione gratis come OneFootball che è sempre precisa e puntuale nel darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno, non si trova tutti i giorni sul web ed è completamente gratuita. Gratuita. Ragazzi, io direi di aver detto tutto, vi lascio alla live reaction che abbiamo vissuto tutti insieme live su Twitch, vi ringrazio perché siamo stati a picchi quasi più di 400 persone e sono soddisfazioni, sono soddisfazioni, vi ringrazio, grazie mille. L'ultima live reaction che abbiamo fatto ragazzi è stata proprio di Champions, non è andata benissimo eh, se devo dire la verità, quindi speriamo di rifarci. Esordio di Chiese Krusevski in Champions League, sì, è vero. Cioè, un attimo, quello che vedo adesso è Giorgio Chiellini regista difensivo con Bonucci a destra. Prego? 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 Oh no, speravo di morire prima. Vabbè Pirlo però, devi smetterla di fare le formazioni apposta per non farci capire niente. Bravo Ramsey. Ecco, questa è una strana della Champions League ragazzi. Questa è una strana della Champions League. Questa è una strana della Champions League. Questa è una strana della Champions League. Proprio da Champions League. Questa è una strana della Champions League. Questa è una strana della Champions League. Con l'attaccante che viene a prendere la palla, la scarica, si cambia tutto con il trequartista e si va al tiro con l'altro esterno. si costruisce a destra per concludere attaccare a sinistra questo ho detto Pedro nella tesi questa è una grande azione l'avevo vista dentro il portiere stava per fare un errore della terza categoria scarsa Frabotta secondo me non è così scarso ahia entra l'emiral si è fatto male Giorgio si è fatto male Giorgio bravo Ramsey avevamo appena detto per adesso poca roba Kuluseski ormai fa un gol incredibile guardate Ramsey ma quanto ci monetizzavamo questo gol dell'1-0 bravo col mancio Rodri si fede si fede puntalo si fede puntalo si fede puntalo si fede per Ramsey col tacco muoio Giorgio Kuluseski ma che cosa abbiamo fatto ma che cosa abbiamo fatto ma che cosa abbiamo fatto ma che gol è ma è bellissimo ma è stupendo ma non svegliatemi ma che gol è è stisbe il gioco Sarri una squadra inallenabile ma che cosa ha fatto Chiesa ma che cosa ha fatto Ramsey ma che cosa ha fatto Kuluseski ma che cosa ha fatto Morata 4-2-3-1 questo vogliamo questo bellissima azione bellissimo gol op ti lascio lì e vado dentro Ramsey col tacco con Noluk arriva Kuluseski una legna Morata questa volta è buono tirate le righe tirate le righe eh sì Di Bala trequartista Ramsey e Chiesa esterni Paolino dentro per Bentancur col tacco ancora per Di Bala Di Bala Di Bala no gliel'hanno toccata già sognavo quel ceris cosa fai cosa fai Di Miral poi dice di no ma cosa fai ma no sono calmo perché comunque non ci sono i presupposti per il momento per non esserlo bastava dirlo bastava dirlo non ci sono i presupposti per essere preoccupati bravi 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 chiusa così doppietta di Alvaro bravo Quadrado bravissimo Quadrado che dopo il gol che gli hanno tolto a Morata col Crotone sempre su assist di Quadrado su assist di Quadrado finalmente troviamo il 2-0 a 7 minuti dalla fine che veramente ci mette in cassaforte il risultato bravi bravi e bravo Morata bravo bravo veramente Morata bravo 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 3 gol in 3 partite grandissimo gol grandissimo gol questo è un gol proprio da centroavanti direi direttore che si può interrompere qui questa partita di UEFA Champions League io vi ringrazio la Juventus vince 2-0 Alvaro Morata Alvaro Morata ragazzi miei è tutto per oggi vi ricordo un mi piace a questo video se vi è piaciuta la live reaction e ne volete altre in futuro e qui sopra nelle schede potete trovare tutti i video inerenti a Dinamo Kiev Juventus dal commento a caldo alle pagelle stessa cosa per il Crotone stessa cosa per la Roma stessa cosa per la Sampdoria e tutti gli altri video che potrete trovare in esclusiva soltanto sul mio canale YouTube ciao alla prossima